Ciao a tutti! Non ci siamo dimenticati di voi. Sta per partire una nuova proposta per sentirci più vicini. Tranquilli, non dovete stare a un metro di distanza. Come? Semplice, usando i social. Ognuno di noi si starà sperimentando, starà imparando, starà scoprendo. Ecco, condividete un video di quello che state facendo in questi giorni di quarantena. Noi commenteremo e rideremo insieme. Sicuramente ci sentiremo meno soli in questo modo. Nell'attesa di rincontrarci in oratorio. Beh, magari scopriremo un nuovo modo di fare oratorio. Noi ci contiamo. A presto!